Siamo molto contenti e penso onorati anche di questo grande calore che spero ci dirà Cagliari perché abbiamo saputo delle due date sold out e aggiunte altre due pomeridiane per cui siamo veramente contenti e speriamo di essere all'altezza delle vostre aspettative. Siamo contenti perché abbiamo veramente lavorato tanto, proprio tanto, pure a livello interpretativo, a livello di tutto ecco, e quindi vi aspettiamo in tanti, è una storia, cioè comunque è una tragedia, quindi comunque fa emozionare. Vi aspettiamo al Teatro Massimo con il nostro spettacolo Giulietta e Romeo che sarà una degna conclusione di questo primo tour invernale. Venite in tantissimi, noi siamo qua. Vi ringraziamo in anticipo, grazie. 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 Grazie a tutti.